No Ciao, eccomi questa volta vestito con il maglioncino rosso per farvi capire o intuire di cosa parleremo in questo video ovvero Natale perché settimana scorsa in un gruppo su un social, ovvero su Facebook mi sono trovato a chiacchierare con alcune di voi sul tema natalizio perciò su quali erano i colori che vanno ovviamente sempre il rosso, l'argentato, il nero, il blu e poi ci siamo soffermati su quelle che erano le problematiche che si riscontrano in questo periodo che sono la nail art ovvero non tanto le decorazioni di per sé ma riuscire a trovare delle decorazioni veloci da fare in salone perciò quando lavoriamo in un centro e abbiamo tanti appuntamenti uno dopo l'altro però dobbiamo essere abbastanza veloci e che non ci fanno impiegare molto, 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 molto tempo al che, tatatatan ci ho pensato un pochettino e ho riesumato, come si suol dire, un prodottino che vi mostrerò in questo video molto carino e molto veloce ovvero il foil sono sicuro che tutti voi avete dentro il cassetto alcune di queste decorazioni in questo video, grazie anche all'utilizzo io uso giustamente il mio gel nero CLS qua lo vedo nella telecamera CLS 06 vi faccio vedere come realizzare delle decorazioni velocissime facilissime senza grandi doti artistiche ne ho fatte due che sono due varianti differenti ovvero una è questa qui che poi la vedete sicuramente meglio dopo e un'altra è con il rosso perciò spero che questo video sia molto utile sia di vostro gradimento ci vediamo dopo per i saluti finali a presto 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 eccomi avete seguito il tutorial delle due proposte di nail art la prima è questa qui ve la faccio rivedere dove il foil l'abbiamo applicato su tutta la superficie dell'unghia e il secondo invece dove l'abbiamo applicato solamente a metà metà tip rossa e metà tip nera come avete visto se avete seguito giustamente il tutorial sono due nail art veramente facili però d'effetto che veramente secondo me renderanno le unghie molto festose e molto particolari spero che il video vi sia piaciuto vi invito a iscrivervi sul mio canale qui sotto troverete tutte le info box con tutti i riferimenti dei prodotti che ho utilizzato se vi è piaciuto mettete un pollice all'insù e soprattutto se avete dei dubbi scrivetemi nei commenti quali sono i dubbi oppure seguitemi negli altri social facebook e instagram sarò felice di condividere con voi qualunque dubbio e qualunque problematica un abbraccio un bacio ciao a tutte no 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 no